Si chiama Barry Drowit Barlow, è diventato nonno di recente, giovanissimo, e ha deciso di regalare alla nipotina una villa per ben un milione di euro come valore complessivo. Ha circa 200 milioni di sterline, questo è il patrimonio svalutato di lui stesso, ha voluto esagerare per dare l'ok e un meglio benvenuto alla bambina che si chiama Marina, partorita dalla amata figlia di nome Saffron, regalandole un completino delle scarpette che non sarebbe stata abbastanza per lui, così ha deciso di intestare una villa, una maxi-villa da russo da sogno e un fondo da 5 milioni di sterline. In due giorni già la bambina si può considerare fortunatissima, infatti è milionaria, ha voluto fare le cose in grande, forse complice il fatto di essere diventato nonno, così all'improvviso e così giovane, ha deciso di fare le regali importanti e non è la prima volta che il Barry va a fare delle cose del genere, infatti l'anno scorso regalò al figlio di nome Romero, che è appena nato, uno yacht di ben 2 milioni di sterline e mezzo e ha chiamato lo stesso yacht con suo nome, ossia Barry. Vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua, insomma, è un uomo generoso, altruista, è un uomo meraviglioso, Barry, che ha dimostrato in una maniera apparese e evidente, è buono e molto bene agli altri ed è molto generoso. Ciao a tutti da andare a vedere.